Il comune di Roncocanavese, il comune principale della Valle Soana, in questo momento sta affrontando come tutto il nostro paese questa pandemia. Noi abbiamo attivato diverse azioni a favore dei commercianti locali, delle attività che vengono chiusi, abbiamo attivato uno strettissimo controllo del territorio grazie all'intervento della polizia locale, dei carabinieri e quindi per il momento siamo riusciti fino ad oggi a tenere il territorio indenne da casi positivi di Covid. Il comune è a disposizione di tutti i cittadini per qualunque loro necessità, per qualunque loro esigenza, sia per quanto concerne il portare la spesa a casa che per quanto concerne l'aiuto finanziario, sia per quanto concerne necessità di spostamento, ma l'invito che rivolgo a tutti i miei cittadini è quello di rispettare le regole, di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento sociale, di restare a casa. Purtroppo dobbiamo sicuramente essere forti a superare questo momento, ma dobbiamo essere nello stesso tempo molto molto prudenti perché la vittoria su questo virus dipende solo ed esclusivamente dalla nostra responsabilità, dal nostro rispetto nei confronti nostri e degli altri. Il comune c'è, i comuni della Valle ci sono, grazie a tutti i volontari che stanno operando, grazie ai commercianti che sono ancora aperti e grazie a tutti coloro che stanno affrontando con dignità questo terribile momento, con la speranza che nel più breve tempo possibile possiamo ritornare ad una certa normalità. Con l'occasione, una buona Pasqua a tutti voi!